La prima guerra mondiale è una fase storica importantissima nella storia dell'umanità e del novecento in particolare ma è anche una fase molto complicata Durò 4 anni, da 1914 al 1918, ma successero un sacco di cose Ci furono molti avvenimenti in diverse parti d'Europa e del mondo Quindi studiarla bene è importante ma ci vuole del tempo ovviamente Io ho dedicato alla spiegazione di questo evento molte molte ore di video che trovate linkate in descrizione Se però avete già studiato e volete dare un ripasso generale, velocemente ricapitolare i punti chiave Oggi vi presento o ripresento velocemente una sintesi della prima guerra mondiale Tutta la prima guerra mondiale in un'ora Andiamo a cominciare Consorso di Gaffani è una solita tazza con la scritta andiamo a cominciare Con me come sempre ci sono i miei compagni d'avventura che sono Topolino, Tostoi, Batman, D'Andrea e il mosto peloso Io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori Insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da due anni sto realizzando su questo canale Delle video spiegazioni di storia e filosofia che seguono più o meno il programma che si fa alle superiori Ma ogni tanto approfondiscono o fanno anche delle sintesi come è il caso di oggi Taglio un po' corto con la solita presentazione perché abbiamo poco tempo Ci sono tante cose da dire e poco tempo per dirle Perché oggi vi vorrei provare a parlare della prima guerra mondiale in un'ora Più o meno esatta, spero di starci nei minuti e se no sforerò di pochissimo Cosa fu la prima guerra mondiale? Intanto vi ricordo che in descrizione trovate i video più espansi, più dettagliati su questa guerra Se dovete studiare, mi raccomando, prima guardate quel video, prima appoggiatevi al libro Questa è una sintesi per chi ha sostanzialmente già studiato e vuole solo richiamare alla mente alcune cose Cosa fu la prima guerra mondiale? Fu un grande conflitto, prima europeo e poi appunto mondiale, che scoppiò nel 1914 E che si protrasse fino alla fine del 1918 Nacque da un fatto abbastanza estemporaneo ma in realtà portò alla ribalta una serie di tensioni Che si erano accumulate in Europa nei decenni precedenti Prima del 1914 si parla infatti di belle époque, di epoca bella, di epoca felice Perché in varie parti d'Europa ci fu l'impressione che l'Europa si stesse avviando verso un progressivo e infinito miglioramento delle condizioni di vita L'economia migliorava, le condizioni di vita miglioravano, perfino i ceti meno abbienti, i ceti operai guadagnavano un po' alla volta con fatica alcuni diritti Insomma c'era un generale ottimismo, la tecnologia avanzava e così via Ma appunto nel 1914 si scoprì quasi come uno shock, quasi come un risvegliarsi da un lungo sonno Si scoprì che tutti questi entusiasmi, tutto questo ottimismo era forse mal riposto Perché certo la tecnologia era avanzata, certo le condizioni sociali erano avanzate, certo l'economia era avanzata Ma tutto questo in realtà aveva paradossalmente preparato la più grande catombe che la storia avesse visto fino a quel momento Perché aveva preparato a una guerra che poi si sarebbe rivelata una carneficina Milioni di morti in tutta Europa, in tutto il mondo Milioni di lutti, milioni di storpi, milioni di traumi Insomma una guerra che fu una ferita fortissima Nell'immaginario europeo e mondiale Come scoppiò? Allora qui bisogna che ci spostiamo brevemente nella zona dei Balcani I Balcani sono quella penisola vicina a noi tra l'altro Che si sviluppa tra la ex Jugoslavia, la Romania, Bulgaria, nord della Grecia Quella zona lì dell'Europa, ve la mostro anche in una cartina Lì c'erano tensioni da vario tempo C'erano state già due brevi guerre prima della prima guerra mondiale Perché si stava e si stava ormai risolutamente dissolvendo l'impero ottomano che aveva dominato lì per secoli E non si capiva bene quale potenza sarebbe diventata egemone C'erano delle mire austriache, l'impero austro-ungarico arrivava fino alla Croazia attuale e in parte alla Bosnia Adesso ne parliamo Ma c'erano anche paesi che volevano l'indipendenza In particolare c'era la Serbia che voleva assumere un ruolo importante E c'erano insomma tensioni Cosa accade? In particolare nel giugno del 1914 L'arciduca d'Austria Cioè il principe ereditario Quello che non è ancora imperatore ma teoricamente è il re del trono Quindi potrebbe diventare imperatore in un breve futuro Che si chiama Francesco Ferdinando Questo arciduca si trova in visita a Sarajevo Sarajevo è il capoluogo della Bosnia La Bosnia in quel momento è una regione che è stata in pratica assoggettata dall'Austria L'Austria aveva presa come protettorato ma di fatto se l'è presa Quindi è austriaca È da poco entrata nell'orbita dell'impero austro-ungarico Ma la Bosnia è sotto l'occhio attento e vigile anche della Serbia La Serbia considera la Bosnia una sua provincia Un suo territorio Vorrebbe che gli austriaci smettessero di invadere la zona Si togliessero dai piedi E permettessero alla Serbia di riunificarsi con la Bosnia Quindi ci sono dei gruppi sia in Serbia sia in Bosnia Che vorrebbero cacciare gli austriaci e riunificarsi E effettivamente durante questa visita di Francesco Ferdinando avviene un attentato Un terrorista, possiamo chiamarlo così, serbo-bosniaco Che vorrebbe provocare l'unificazione tra Serbia e Bosnia di nome Gavrilo Princip Uccide durante il giro della città Uccide il principe ereditario, l'arciduca Francesco Ferdinando Questo provoca un grande incidente internazionale Questo attentato di Sarajevo Con l'Austria che chiede alla Serbia di intervenire Intanto di arrestare i complici di Princip Perché questo Gavrilo Princip non ha agito da solo ovviamente Ma poi anche di indagare all'interno della Serbia Su gruppi terroristici che lavorerebbero contro l'Austria Le indagini si fanno ma l'Austria chiede di più e chiede di più Ed effettivamente circa un mese dopo l'attentato il 23 luglio Sempre nel 1914, 1914 Lancia un ultimatum alla Serbia Chiede alla Serbia di poter entrare con i propri uomini Con la propria polizia in Serbia per indagare Cioè l'Austria chiede alla Serbia di non solo di indagare di più Ma di cedere almeno una piccola parte della sua sovranità Perché l'Austria avrebbe con i suoi uomini, con i suoi mezzi Iniziato ad indagare direttamente in Serbia L'ultimatum è ritenuto da un po' tutti come inaccettabile La Serbia tenta di accettare in alcuni punti Cerca una soluzione di compromesso Ma l'Austria rifiuta la risposta della Serbia e dichiara guerra Effettivamente pochi giorni dopo Circa un mese dopo l'attentato il 28 luglio 1914 L'impero strungarico dichiara guerra alla Serbia A quel punto si genera però un effetto a catena Perché la Serbia, che è uno stato autonomo È difesa però dalla Russia, dall'impero russo Che si sente la naturale protettrice dei popoli slavi e anche dei serbi Quindi quando l'Austria dichiara guerra alla Serbia La Russia inizia a muoversi perché ritiene di poter intervenire Non è ancora intervenuta ma vuole essere pronta nel caso A intervenire in difesa della Serbia contro l'Austria E quindi inizia la cosiddetta mobilitazione Cos'è la mobilitazione? Vuol dire mandare, reclutare l'esercito Mandare la cartolina ai soldati Iniziare a spostare le truppe Iniziare ad organizzarsi per un'eventuale guerra Un'operazione questa di mobilitazione Che in Russia era particolarmente lente e difficile Perché la Russia è un paese molto grande Con vie di comunicazione all'epoca non proprio perfette Insomma ci voleva del tempo per essere pronti per la guerra Quindi la Russia dice Nel caso in cui scoppia una guerra noi dobbiamo essere pronti Iniziamo a mobilitarci La mobilitazione russa però preoccupa la Germania Che è alleata dell'Austria Esisteva già da un trentennio infatti in Europa Un'alleanza chiamata triplice alleanza Che coinvolgeva imparoso ungarico Impero tedesco, Germania e Italia Questi tre paesi, Germania, Austria e Italia Erano tra loro alleati già dal 1882 Ora, l'Austria sta per fare una sua guerra contro la Serbia La Russia sta preparandosi a un'eventuale guerra La Germania che è alleata dell'Austria Dice tu Russia se ti stai preparando una guerra Sappi che noi interverremo in difesa dell'Austria Quindi preparati che anche noi ci prepariamo E però il fatto che la Germania si prepari alla guerra anch'essa Preoccupa anche la Francia Che è alleata a sua volta della Russia Se c'è infatti un'alleanza chiamata triplice alleanza Che prende Germania, Austria e Italia C'è anche una seconda alleanza chiamata triplice intesa Che prende Francia, Russia e Regno Unito Quindi la Francia dice Cara Germania, se tu inizi a muoverti per minacciare la Russia Sappi che ci muoviamo anche noi per minacciare te Insomma, tutti iniziano a mobilitarsi La Germania a quel punto decide di muoversi E decide prima ancora che la cosa scoppi di suo Che le dichiarazioni di guerra vengano smosse dagli altri Di attaccare lei per prima Cioè decide di attaccare contemporaneamente Di dichiarare guerra contemporaneamente a Russia e Francia A Est e a Ovest Perché questo? Mentre la guerra sta appena appena iniziando tra Austria e Serbia Perché la Germania già da tempo è pronta alla guerra La Germania già da tempo vorrebbe misurarsi con le altre potenze europee La Germania si è unificata da poco Si è unificata nel 1870 Da neppure 50 anni È molto cresciuta dal punto di vista economico Si è molto sviluppata Un'industria che ormai è una delle principali al mondo E però non ha colonie O ne ha molto poche Non ha lo spazio che hanno Francia e Inghilterra Ora Se la Germania si fosse impegnata in una guerra su due fronti Da una parte della Russia e da una parte della Francia Sarebbe stata una guerra difficile, complicata, lunga Chissà se l'avrebbe vinta Allora la Germania aveva preparato da tempo un piano militare Che prevedeva un attacco veloce Contando sul fatto che la Russia era lenta a mobilitare Quindi non sarebbe stata pronta per la guerra subito Si avrebbe messo settimana e settimana ad essere pronta per la guerra La Germania pensava di attaccare subito la Francia Contando sul fatto che la Russia non fosse ancora pronta Attaccare subito la Francia Sconfiggere la Francia E poi potersi dedicare con calma alla Russia Quindi la Germania decide di fare questa mossa veloce Dichaira guerra tutti e due E punta all'attacco della Francia Aspettando ad attaccare sul fronte orientale Aspettando ad attaccare sul fronte russo Tutti i paesi entrano in guerra Ma come entrano in guerra? Beh con un certo entusiasmo bisogna dire Nel luglio-agosto del 1914 Nelle principali città europee ci sono sceni giubilo per questa guerra Si festeggia a Vienna Si festeggia a Berlino Si festeggia a Parigi Si festeggia a Londra Si vedono con infinite di volontari Che si vogliono arruolare per andare a combattere Perché questo? Perché non si è capito come sarà la guerra? Tutti si sospettano infatti una guerra di movimento Una guerra vecchio stile sull'esempio delle guerre napoleoniche dell'Ottocento Guerra in cui i generali riusciranno a muovere le truppe in maniera intelligente In cui ci si sconterà sul campo di battaglia In cui si potrà mettere alla prova il proprio valore In cui finalmente si farà qualcosa di eroico Qualcosa di vitale In cui i giovani anche potranno misurarsi Una guerra che durerà anche poco si pensa Perché ci si sposterà Le guerre tradizionalmente duravano poco C'erano due o tre battaglie decisive E poi si finiva In realtà non sarà affatto così La guerra si rivelerà tutto il contrario Si rivelerà subito una guerra di logoramento Una guerra lunga Una guerra in cui non si si confronta mai sul campo di battaglia In cui ci si nasconde più che altro Perché questo? Perché questa guerra si rivela subito una guerra industriale L'industria ha fatto dei progressi enormi Nei 40-50 anni precedenti E proprio i mezzi che l'industria mette a disposizione della guerra Rendono impossibile una guerra di vecchio tipo Ora ci sono armi potentissime Come le mitragliatrici Come arriveranno nel corso della guerra le armi chimiche Come arriveranno nel corso della guerra i primi carri armati Come gli aerei Come obici di vario tipo Mitraglie, cannoni molto moderni eccetera Questo fa sì che ci sia costantemente sul campo di battaglia Una potenza di fuoco enorme E quindi che nessuno schieramento Nessuna truppa possa realmente Aver possibilità di avanzare in campo aperto Le vecchie battaglie napoleoniche Si combattevano in campo aperto Arrivavano i due eserciti su una piana Di solito a volte con delle alture Ma più o meno su una piana Ci si scontrava E poi a seconda di come riuscivi a muovere le truppe Vincevi Ora non è più possibile Perché se tu porti il tuo esercito in campo aperto Su una pianura E lo fai avanzare Gli altri ti rispondono con Bombardamenti a raffica Con mitragliatrici Migliaia di mitragliatrici a raffica Con filo spinato Con armi chimiche Cioè gas E tu porti avanti magari 10.000 uomini Te ne muoiono 7.000 E gli altri 3.000 rimangono feriti E non riesci a conquistare Neanche un po' di territorio Questo è l'andamento E questo fa sì che gli eserciti Che speravano di avanzare rapidamente In realtà si trovano costretti A scavare trincee Il vero simbolo della prima guerra mondiale Sono infatti le trincee Cosa sono le trincee? Sono delle buche Sostanzialmente sotterranee O a volte Non proprio sotterranee Ma dei trinceramenti Cioè Creare dei terrapieni Delle alture artificiali Diciamo Che ti permettano di stare nascosto Sotto un ammasso di terra Questa sarà Sostanzialmente La condizione Della vita Quindi la guerra Non è una guerra di avanzamento Non si riesce ad avanzare Si rimane bloccati È una guerra di posizione Si rimane fermi lì Quasi sempre È una guerra di logoramento Quindi l'entusiasmo iniziale Si spegne Nel giro di pochi mesi C'è da dire Che anche il piano tedesco Che avevo detto Era quello di attaccare in fretta Tramonta Tramonta L'idea di poter battere in fretta La Francia Per poi rivolgersi Alla Russia Scusate Si rivela errato C'era un piano Che si chiamava piano Schliffen Dal nome del generale tedesco Che l'aveva elaborato Che prevedeva Di sorprendere i francesi Passando per il Belgio Invece di attaccarli Direttamente sul confine A girare Le difese francesi Sul confine Passare per il Belgio Invadere il Belgio E scendere in Francia Ovviamente Invadere il Belgio È un atto illegale Perché il Belgio Era neutrale Provoca l'entrata in guerra Dell'Inghilterra Vabbè E comunque Il tentativo Di invadere il Belgio In fretta Per scendere verso la Francia Si rivela Sbagliato Perché si rivela Un fallimento Perché Proprio per la lentezza Dell'avanzamento Proprio per questo nuovo tipo di guerra Effettivamente I tedeschi Vengono bloccati Dai francesi Con l'aiuto degli inglesi Vengono bloccati Sulla Marna Che è un fiume Vengono ricacciati Un po' indietro E poi il fronte occidentale Si assesta Sulla Somme Sostanzialmente Con un altro fiume francese Quindi Si crea un fronte Piuttosto lungo Tra Belgio e Francia Chiamato fronte occidentale Dove sostanzialmente Per quattro anni I tedeschi E i franco inglesi Si combatteranno Senza in realtà Riuscire Veramente a spostare La linea del fronte Se non di pochi chilometri Senza mai riuscire a sfondare Senza mai riuscire Ad avanzare Veramente Questo occidente A oriente I tedeschi Iniziano a combattere Anche contro i russi Perché a un certo punto I russi sono pronti Lì c'è qualche vittoria Tedesca Effettivamente C'è la battaglia I laghi masuri C'è qualche vittoria tedesca Ma anche lì La guerra È una guerra Sostanzialmente Di logoramento Meno netta Che non a occidente Ma anche lì Una guerra di logoramento In più bisogna dire Che Da questo panorama iniziale Poi Tra la fine del 14 E poi nei 15 Negli anni successivi Il conflitto Si allarga Entrano in gioco Ad esempio Nel novembre del 14 Anche l'impero ottomano Che si allea Con Germania E Austria Quindi contro la Russia Entrano in gioco Anche l'Italia Ma di quella Parliamo adesso A parte L'Italia in tutto questo Cosa fa? L'Italia Era alleata Di Germania E Austria Nella triplice alleanza Quindi già da 50 No Da 30 erotti anni Teoricamente Doveva Entrare Combattere insieme Da Germania E Austria Ma in realtà La triplice alleanza Questo patto Fermato nel 1882 Era un patto difensivo Cioè prevedeva Che l'Italia Sarebbe dovuta Entrare in guerra Nel caso in cui Germania o Austria Fossero state attaccate Ma in questo caso Dice l'Italia È stata l'Austria A dichiarare guerra Alla Serbia È stata l'Austria A attaccare la Serbia Quindi noi Dice il governo italiano Che è in mano In quel momento A Salandra Un liberale conservatore Noi non siamo tenuti A entrare in guerra E quindi l'Italia Effettivamente Inizialmente Sceglie la neutralità Non entra in guerra Si dichiara neutrale Con buona pace Di Austria E Germania Sta a guardare Anche perché L'Italia Anche l'Italia Si è formata da poco Non è poi Questa grandissima Potenza industriale Ha sviluppato Un po' di industria Ma chissà Come andrebbe una guerra E soprattutto L'Italia Non ha motivo Di entrare in guerra Contro la Serbia Non ha motivo Di entrare in guerra Contro la Russia Non ha motivo Di entrare in guerra Contro la Francia Ora Nei primi mesi L'Italia sta a guardare Però Nel corso di questi I primi mesi Tra la fine delle 14 L'inizio del 15 In Italia Iniziano a muoversi Alcuni gruppi Che vorrebbero L'intervento Che vorrebbero Che l'Italia Entrassi in guerra Vengono chiamati Solitamente Interventisti Chi sono questi? Sono personaggi Di vario livello Di vario ambito Ad esempio Ci sono i cosiddetti Irredentisti Cosa sono gli Irredentisti? Sono degli intellettuali Dei giovani Che vorrebbero Entrare in guerra Per redimere Da qua Il nome Irredentisti Le terre Non redente Cioè ci sono Delle terre Tipo Il Trentino Alto Adige Tipo La Venezia Giulia Trieste Trento L'Istria Delle zone D'Italia Tra virgolette Cioè Abitate da italiani Che però Non appartengono All'Italia Il Trentino Alto Adige È in mano Ad esempio Agli austriaci Trento Città Di lingua italiana È in mano Agli austriaci Trieste Città Di lingua italiana È in mano Agli austriaci L'Istria Regione Principalmente Anche se mista Un po' Di lingua italiana È in mano Agli austriaci Allora Dicono Questi Irredentisti Che magari Provengono Proprio Da Trento Da Trieste Dall'Istria Dicono Noi dobbiamo Entrare in guerra Ma non Con l'Austria Dobbiamo Rinnegare Il nostro vecchio Alleato Cambiare schieramento Entrare in guerra Con la Francia Con il Regno Unito Con la Russia Contro l'Austria In modo da sconfiggere L'Austria E prenderci finalmente Trento Trieste E completare L'unificazione Quindi ci sono Intellettuali di questo tipo Il più famoso Si chiama Cesare Battisti È un Trentino Di Trento Che vorrebbe Entrare in guerra Contro l'Austria Ma poi ci sono anche Altri gruppi Che vorrebbero la guerra Ad esempio Vorrebbero la guerra Agli industriali Si è capito Che la guerra È una guerra industriale Che gli industriali francesi Tedeschi Russi Inglesi Stanno facendo Grandi affari Con la guerra E chiaramente Gli industriali italiani Dicono Beh perché noi no Anche l'Italia Dovrebbe entrare in guerra Poi ci sono Anche degli Degli intellettuali Stavolta Non tanto i redentisti Quanto piuttosto Degli intellettuali Nazionalisti Che vorrebbero Entrare in guerra Cioè ci sono Ad esempio I futuristi Li avete messi a nominare Spero di sì Sono degli artisti Letterati Che esaltano il movimento Che esaltano la macchina Che esaltano anche la guerra Filippo Tommaso Marinetti Fondatore del futurismo Aveva già parlato Anni addietro Di guerra Come sola I gene del mondo C'è bisogno della guerra La guerra fa bene i popoli La guerra Rinfranca La guerra Rafforza Quindi bisogna che entriamo in guerra Non stiamo in disparte Come dei vigliacchi Dobbiamo entrare in guerra Quindi i futuristi Lavorano Per l'entrata in guerra C'è un intellettuale Molto seguito all'epoca Uno scrittore Che si chiama Gabriele D'Annunzio Che si studia anche in letteratura Che inizia a esporsi Molto a favore della guerra Perché anche lui Ritiene Pur per motivi diversi Dei futuristi Che la guerra Sia qualcosa di eroico Qualcosa che può mostrare Il valore dell'uomo E che quindi sia invece Troppo borghese Troppo passatista Troppo vigliacco Starsene in disparte A guardare E poi ci sono Dei gruppi politici Proprio nazionalisti Ci sono dei partiti Che spingono Per l'entrata in guerra In più Ultimo gruppo C'è anche una parte Del partito socialista Che vorrebbe l'entrata in guerra I socialisti italiani Per lo più Sono neutralisti Non vorrebbero Entrare in guerra Però c'è una minoranza Che membro anche Di quello che è successo Ad altri partiti socialisti europei Perché il partito socialista tedesco Era favorevole alla guerra Del partito socialista francese Era favorevole alla guerra Eccetera Allora anche una minoranza Del partito socialista italiano Vorrebbe la guerra Perché dice La guerra E' vero che è una guerra Imperialista E' una guerra Dei borghesi Ma la guerra Ci potrebbe aiutare A spingere In là La situazione E favorirebbe Potrebbe favorire Una rivoluzione Una rivoluzione socialista Quindi entriamoci in guerra Così faremo poi Anche la rivoluzione Tra questi Socialisti Che vogliono la guerra Si segnala un giovane Benito Mussolini Che poi Fonderà il fascismo Più avanti Dopo la guerra E diventerà il leader Del fascismo Questi sono gli interventisti Ci sono però anche Dei neutralisti Ovviamente Ad esempio Neutralisti sono La maggioranza dei socialisti Come vi ho detto E poi ci sono Anche i liberali Di Giolitti Giolitti Che è ormai anziano Però è ancora un personaggio Importante sulla scena politica E' favorevole Invece Alla neutralità Ritiene che L'Italia potrebbe Intanto che non sia pronta Per una guerra Dal punto di vista Proprio bellico Economico Industriale E poi Ritiene che L'Italia avrebbe di più Da guadagnare A star fuori Che a star dentro Perché si potrebbe Convincere gli austriaci A concederci Trento e Trieste Solo con la minaccia Di entrare in guerra Cioè andare agli austriaci E dirgli Guardate che noi Potremmo entrare in guerra Se volete che noi Rimaniamo neutrali Dateci qualcosa Questo sarebbe Il piano di Giolitti Un modo per Ottenere qualcosa Senza interiore Guarda poi tutto da vedere Sarebbe realizzabile Però Questa sarebbe l'idea In realtà però La voce degli interventisti Cresce lungo i mesi Cresce lungo gli anni E in particolare Il governo Guidato appunto Da questo Salandra Decide Nella primavera del 15 Per l'entrata in guerra E avvia delle trattative Segrete Non tanto Con i vecchi alleati Della Germania Dell'Austria Ma con i nemici teorici Cioè con l'Inghilterra Con la Francia E con la Russia Perché l'Italia Entri in guerra Assieme a loro Quindi cambi schieramento Queste trattative segrete Culminano nella firma A fine aprile del 15 Del patto di Londra Un patto che prevede Che l'Italia Entri in guerra Entro un mese Dalla firma di quel patto Al fianco di Francia Inghilterra E Russia In cambio In caso di vittoria Di alcune terre importanti Nel patto di Londra Si stabilisce Che l'Italia In caso di vittoria Otterrà Il Trentino Alto Adige Otterrà la Venezia Giulia Quindi Trieste Gorizia Eccetera Otterrà L'Istria La penisola Che arriva dopo Trieste E una buona parte Della Dalmazia Che sono quegli isolotti Sulla costa Dell'attuale Croazia Che erano state A suo tempo Colonie Veneziane Questo è il patto Viene firmato in segreto Il Parlamento Non ne sa niente Il governo Lo dice al Parlamento A maggio Fine maggio Del 1915 E il Parlamento Colto alla sprovvista Anche se in realtà La maggioranza del Parlamento Sarebbe neutralista Colto alla sprovvista Sulla spinta anche Di alcune manifestazioni Di piazza Che spingono Per l'intervento E alla fine Il Parlamento italiano Vota a favore Dell'intervento Dell'Italia L'Italia Effettivamente A fine maggio Il 23 maggio Del 1915 Dichiarano La papà Entrata in guerra Come vanno Le prime operazioni Dell'Italia In realtà Vanno piuttosto male Il capo di governo Ve l'ho detto È Salandra Il capo di stato maggiore Cioè il generale Che guida l'esercito italiano Si chiama Luigi Cadorna E Cadorna Mette in atto Un piano Che è il Classico vecchio piano L'attacco frontale Come avevano fatto Anche altri generali C'è da dire In questa prima guerra mondiale Tattica che Si sta rivelando Però nel corso dei mesi Sempre meno efficace Il piano di Cadorna È quello di attaccare Gli ostrici Soprattutto sul Lisonzo Lisonzo è un fiume Che scorre proprio Nel Friuli Tra il Friuli E la Nanzia Giulia Ma le varie battaglie Sul Lisonzo Che vengono combattute Nella seconda metà Del 1915 Si rivellano Un mezzo fallimento Nel senso che Attacchiamo Attacchiamo a testa bassa Senza però Riuscire a sfondare È molto facile Difendersi Daltono in una situazione Del genere In una situazione Di guerra di trincea Gli avanzati Sono difficili Gli attacchi Sono difficili E molto più facile Difendersi Quindi I primi mesi Sono segnati Da vari insuccessi Ma nella primavera Del 16 Quando arriva La bella stagione Sono gli ostrici A rispondere Nel maggio Del 1916 Infatti Gli ostrici Danno un colpo Una spallata forte All'esercito italiano Non tanto sul Lisonzo Ma sull'altopiano Di Asiago In Veneto Dove Rispondono Con una controffensiva Che viene risolto Chiamata Strafe Expedizione Espedizione Punitiva Con cui Gli ostrici Rinforzati Anche Dalle parti Tedeschi Sfondano Brevemente Il fronte Italiano Sull'altopiano Di Asiago Infliggono Alcune dure Sconfitte All'Italia L'Italia Riesce comunque A riorganizzarsi In un giro Di poco tempo E riesce a frenare Ogni eventuale avanzata Austriaca Però È un duro colpo Segno che l'Italia Che pensava All'intera in guerra Sfruttando poi Il fatto che l'Austria Sia impegnata In vari fronti Perché è impegnata In Serbia Eccetera Sperava l'Italia Di vincere facile Non è affatto così Ci rende conto Che non è affatto così Questo provoca Anche una crisi di governo Perché Salandra Che aveva promesso Facili vittorie Costretto a rimettersi Diventa capo del governo Un certo Boselli Ma in realtà La strategia italiana Non cambia Per il momento Cadorna Rimane al suo posto E l'Italia Continua ad attaccare Ripeto A testa basso Senza però Ottenere risultati Di rilievo Ma è una situazione Che si vede In tutta Europa Questa degli attacchi A testa bassa Che non portano Tra nessuna parte Ad esempio si vede Anche sul fronte occidentale Il fronte tra Francia e Germania Insomma per intenderci Lì Il 1915 È un momento Di immobilitare I scontri inutili Ma ancora peggio Va il 1916 Dove si assiste A vere e proprie carneficine Per tutto il 1916 Ci sono delle Poderose battaglie Sul fronte occidentale Che provocano Milioni di morti La prima grande battaglia È il tentativo Tedesco di sfondare I tedeschi Già a febbraio Del 1916 Organizzano Uno grande sforzo Che va avanti Da febbraio Fino a giugno Del 1916 È la battaglia Di Verdun Una battaglia incredibile Una delle più sanguinose Battaglie Della prima guerra mondiale Ma anche di tutti i tempi Che provoca Circa 600 mila morti Solo quella battaglia Una battaglia Che dura mesi Ovviamente Però 600 mila morti Vi renderete conto Di quanti siano Senza che i tedeschi Riescano a sfondare Appena terminata Questa battaglia Però ce n'è subito Un'altra Perché c'è la controffensiva Franco-inglese Che parte più o meno Nel luglio del 1916 E va avanti Fino a novembre È la battaglia Della Somme Anche questa Una vera e propria carneficina Fa circa Un milione di morti Da entrambe le parti Quindi capite che In un anno Solo sul fronte occidentale Muore più di un milione E mezzo di persone È una carneficina enorme Senza che in realtà Si cambi qualcosa Perché la linea del fronte Rimane sempre più o meno lì Quindi sono morti inutili Sono morti Completamente sprecate Una vera e inutile stagia Qualcosa di diverso Accade a Oriente Dove i tedeschi Ottengono ripeto Altre vittorie Riescono a ricacciare Un po' indietro I russi Dove gli austriaci Riescono anche A occupare la Serbia Dove qualche novità c'è Ad esempio Arrivano anche gli inglesi A un certo punto Gli inglesi tentano Di andare A aiutare i russi Sbarcando sui dardanelli Sbarcando nell'impero Turco ottomano Avete detto che i turchi Sono alleati Con i tedeschi E gli austriaci Ma lo sbarco degli inglesi Sui dardanelli È fallimentare E si rivela anche lì Una carneficina Quindi lì C'è una certa difficoltà Dell'intesa E un certo avanzamento Degli imperi centrali Ma non ancora recesivo Ultima cosa da dire Si registrano Tra il 16 e il 17 Anche alcune battaglie navali Pochissime in realtà La più importante È la battaglia Dello Jutland Nel 16 Che vede I tedeschi Sconfiggere Momentaneamente Gli inglesi Ma non ha una battaglia Poi recesiva Ma il mare Inizia a diventare Particolarmente importante Perché gli inglesi Tentano di mettere In difficoltà I tedeschi Praticando un blocco navale Dovete pensare Che la Germania E l'Austria Sono circondate Hanno da una parte I francesi Dall'altra parte I russi A sud L'Italia Se vogliono importare Materie prime Devono passare Necessariamente Dal mare O se l'Inghilterra Riesce a bloccare I rifornimenti Da quella parte Può affamare E togliere Materie prime I tedeschi E la Germania E la Germania E la Germania è costretta A fare Appunto Guerre navali Per evitare Questo blocco Ovviamente Tutto questo Porta A degli scompensi Quando si fanno Battaglia Come quella Della Somme Come quella Di Verdun Che portano A milioni e milioni Morti Il morale Non può essere Lo stesso Dell'inizio All'inizio Nel 14 C'era stato Grande entusiasmo I ragazzi Si arruolavano Volontari Partivano Lasciavano la scuola Andavano Ad arruolarsi Ora non è più così Chiaramente C'è stato Uno scontro Con la realtà Con la vita di guerra Che è traumatico Una vita di guerra Che è tutta diversa Da come ce la si aspettava Si sperava di andare A combattere Fare in fretta Muoversi E misurarsi Sul campo di battaglia Si rimane invece Trincerati in mezzo al fango Per mesi Al freddo Fermi E quella volta Che si mette la testa Fuori dalla trincea Si viene uccisi O feriti O mutilati Molto velocemente Questo porta A un generale Rifiuto della guerra Le truppe Sono sempre più Depresse E sfiduciate Sempre meno volenterose Sempre più timorose Di quello che accadrà Sconsapevoli Che si andrà in guerra Per morire sostanzialmente O per rimanere Fortemente feriti E però ormai Si è dentro A questa guerra E nessuno si può Tirare indietro Perché tirarsi indietro Vuol dire perdere Vuol dire vanificare Tutti i sacrifici Fatti fino ad adesso Bisogna riuscire a vincerla Altrimenti i morti Saranno stati inutili Questa è l'idea di fondo Tra l'altro La guerra è brutale Non solo perché Si muore in tanti Ma perché ci sono Proprio queste nuove armi Che rendono brutale La guerra Vi ho parlato brevemente Della mitragliatrice Ma ce ne sono Via via altre Che vengono introdotte Nel corso della guerra Ad esempio Già dal 15-16 Come vi dicevo Fanno la loro comparsa Le armi chimiche Quindi c'è Il timore La paura La fobia Anche di morire in questo modo Con le armi chimiche Ma poi arrivano gli aerei Gli aerei Vengono usati In questa prima guerra mondiale Soprattutto come Mezzo di ricognizione Non ci sono ancora aerei Che scaricano bombe Gli aerei Sono ancora aerei Piuttosto leggeri Che hanno al massimo Delle mitragliatrici Montate Sulla Carlinga Sull'aereo Non possono ancora Portare bombe Quindi non bombardano Saranno gli aerei Di seconda guerra mondiale Quelli Che bombarderanno Qui sono aerei Usati per volare Sopra alle linee nemiche Per vedere come sono Risposti i nemici A volte per Anche così Stimolare l'immaginario Per fare duelle aerei Un aereo Di un schieramento Contro l'aereo Di un altro schieramento Che si mitragliano A vicenda per abbattersi Sono anche degli eroi Come il barone rosso Ad esempio Che diventano molto celebri Da questo punto di vista Verso la fine della guerra Tra il 17 e il 18 Arriveranno anche I primi carri armati Che teoricamente Dovrebbero servire A superare La terra Di nessuno A superare Le trincee Ma in realtà I primi carri armati Sono ancora Molto rudimentali E hanno un impatto Molto relativo Quindi verso la fine La guerra Magari avranno Un certo impatto Ma non saranno Poi così decisivi Per l'esito finale Della guerra Infine C'è un'ultima arma Da citare Che è il sottomarino I tedeschi In particolare Riescono a creare I sottomarini I sommergibili Cioè Navi che vanno Sott'acqua Che diventano importanti Proprio per aggirare Il blocco navale Messo in campo Dagli inglesi Ovviamente Tutto questo È importante Anche in relazione Alla vita A casa Perché per costruire Armi di questo tipo Per costruire Armi chimiche Per realizzare Armi chimiche Per costruire Mettagliatrici Per costruire Sommergibili Serve un grande Sforzo Anche dell'industria Si combatte In trincea Si combatte Sulla linea del fronte Ma in un certo senso Si combatte anche A casa Anche dove ci sono Le industrie Perché a combattere Sulla linea del fronte Vanno per lo più I contadini Ma ovviamente Questi contadini Che fanno Compongono il grosso Delle truppe Devono ricevere Dagli operai Che stanno A Parigi Che stanno A Milano Che stanno A Torino Che stanno A Birmingham A Manchester Dove volete voi Devono ricevere I rifornimenti Di armi Quindi anche Chi sta a casa Deve lavorare A sprono battuto Non si può permettere Ad esempio Di scioperare Di far ferie Lunghe Perché se non Produci le armi La gente al fronte muore Questo legame Strettissimo Tra il fronte Vero e proprio E quello che verrà Chiamato il fronte interno Cioè La vita in città La vita a casa La vita lontana dal fronte È sempre più netto Quindi si capisce Che se si vuole vincere Bisogna vincere anche a casa Non solo sul fronte Bisogna vincere anche Dal punto di vista industriale Non solo sul fronte E bisogna che ci sia Uno sforzo Completo E coerente Di tutta la popolazione In favore della guerra Non si può Remare contro Non si può Opporre più di tanto Alla guerra Perché chi si oppone Alla guerra Chi Rema contro Chi Fa sabotaggio Contro la guerra I cosiddetti Disfattisti Come verranno chiamati Può portare A perdite di vite umane Quindi bisogna Sforzarci tutti C'è una grande opera Di propaganda Per convincere anche Chi sta a casa Le donne nei campi A lavorare al posto Degli uomini Gli operai A lavorare A sprombatutto In fabbrica E anche le donne Iniziano a lavorare In fabbrica Per sostenere Lo sforzo bellico Per riuscire A vincere questa guerra Ovviamente Però si inizia anche Di rimando A sospettare Di chi Non si sforza Di sostenere I soldati al fronte C'è sospetto Per i soldati al fronte Che sono magari A volte accusati Di codardia Di non combattere Con il dovuto Vigore E quindi a volte Vengono anche messi Al muro Vengono messi a morte Quei soldati Che si rifiutano Di combattere Che si tirano indietro Eccetera Ma si inizia A sospettare Anche di chi A casa Fa il disfattista O rema contro Ma a volte anche Di chi A casa Non sembra Appartenere Al gruppo Etnico Che combatte Faccio un esempio Molto concreto L'Italia sta combattendo Contro l'Austria L'Ungheria Sta combattendo Contro gli ostriaci Ebbene Se ci sono Ad esempio in Austria Delle minoranze Italiane Perché I confini dell'Austria Prendevano dentro Anche zone italiane Ad esempio Trento Era sotto l'Italia Sotto l'Austria Triestero sotto l'Austria Anche se ci viveva gente Di lingua italiana Allora gli ostriaci dicono Ma tu che sei un trentino Cioè sei cittadino austriaco Ma di lingua italiana Sarai fedele a noi O ti schiererai con l'Italia Lavorerai in fabbrica Per aiutarci A produrre le armi O rallenterai in fabbrica Perché così spererai di aiutare Il tuo cugino italiano Che però oggi È il nostro nemico Si inizia a sospettare Cioè delle minoranze Etniche Che si sospettano Fare il tifo Per il nemico Questo porta a volte A dei casi emblematici Come quello Degli armeni Gli armeni Erano una minoranza Sviluppatasi Tra impero ottomano E impero russo Esistono ancora oggi Anche se molto ridotti Di numero Ecco Gli armeni Vengono sospettati Soprattutto Dall'impero ottomano Di Fare Di Sperare Nella vittoria russa Quindi di Fare i disfattisti Di lottare Contro L'impero ottomano Pertanto Gli armeni Che vivevano Proprio nelle zone Di confine Con la russia Vennero Costretti Dall'impero ottomano A Uno spostamento forzato La marcia forzata Verso campi di concentramento Volevano essere radunati Dagli ottomani In certe zone In modo da poter essere controllati Questa marcia forzata Degli armeni Si rivela Una vera e propria carneficina Perché morirono Si stima Tra un milione Un milione e mezzo Degli armeni Fu il primo genocidio Della storia Motivato da questo sospetto Verso il possibile Nemico interno Tutto questo panorama Si arrivò A una vera e propria svolta Nel 1917 Ci furono vari fattori Importanti Che accadero in quell'anno E che Diedero Furono forse L'unica Ripeto Svolta L'unico momento Di cambiamento Della situazione All'interno Della prima guerra mondiale Direi Tre cose da rimarcare Due per il panorama mondiale Uno per l'Italia Prima cosa da rimarcare Entra in guerra Gli Stati Uniti Cosa che allargerà Il conflitto Era già un conflitto mondiale Perché I paesi europei Combattevano anche Con le loro colonie Con truppe coloniali Che venivano dal Canada Che venivano dall'Africa Eccetera Però Ora entra in gioco Entrano in gioco Anche gli Stati Uniti Quindi un grande protagonista Secondo fattore Arriva la rivoluzione russa E la Russia uscirà dalla guerra Terzo fattore Più propriamente italiano C'è la disfatta di Caporetto Vediamoli velocemente Uno per uno Primo fattore Entrano in gioco Gli Stati Uniti Perché Fino a quel momento Gli Stati Uniti Erano rimasti fuori Gli Stati Uniti Avevano una tradizione Isolazionista Non volevano più di tanto Non avevano nulla da fare In Europa Per una guerra del genere Ma Forti del legame Della tradizionale amicizia Con l'Inghilterra Avevano sostenuto Economicamente L'Inghilterra Che stava combattendo Contro la Germania Eccetera Ora Nel 1917 Il capo di stato maggiore tedesco Hindenburg Il generale tedesco Decide di Cercare di colpire Più duramente L'Inghilterra Bisogna Costingere l'Inghilterra In qualche misura Ad arrendersi Ci si rende conto Che non si potrà Continuare la guerra All'infinito Bisogna arrivare a una fine Allora Hindenburg Elabora questo piano Visto che l'Inghilterra Ha cercato di affamarci Facendo il blocco navale Adesso restituiamo Pan per focaccia Cioè noi Che i nostri sommergibili Andiamo Attorno all'Inghilterra E abbattiamo Tutte le navi Che arrivano Verso l'Inghilterra Verso il Regno Unito Così li tagliamo fuori Da ogni rifornimento Hindenburg Proclama Lo annuncia proprio La guerra sottomarina Indiscriminata Abbatteremo tutte le navi Che noi riterremo sospette Di portare i rifornimenti All'Inghilterra Regno Unito Chiaramente questo Offende molto Gli Stati Uniti Perché gli Stati Uniti Stavano facendo rifornimenti Facevano proprio questi viaggi Di anche materiale bellico O comunque Rifornimenti economici Eccetera Verso l'Inghilterra Quindi La La mossa di Hindenburg Provoca di fatto L'entrata in guarda Gli Stati Uniti Che nell'aprile del 1917 Nella persona Del loro presidente Woodruff Wilson Che vedremo a parlare un ruolo Dichiarano l'entrata in guerra Perché fa questa mossa la Germania Sono scemi a volere Entrata in guerra Degli Stati Uniti In realtà La Germania Poteva anche aspettarsi L'entrata in guerra Degli Stati Uniti Ma come al solito Tenta di agire sui tempi Cioè Hindenburg è convinto Di poter dare La spallata decisiva All'intesa Inghilterra e Francia Entro il 1917 Sa Hindenburg Che gli Stati Uniti Anche se entrassero in guerra Cosa che avverrà Ci metterebbero comunque Molti mesi Ad essere pronti Perché Devono organizzarsi Poi devono partire Dal continente americano Arrivare in massa In Europa Ci vogliono mesi Esattivamente Gli Stati Uniti Dichiarano guerra All'aprile Ma riusciranno a portare Molti uomini Sul fronte europeo Solo l'anno dopo Nel 1918 Effettivamente Prima che Gli Stati Uniti Abbiano un impatto vero Ci vorranno Ci vorranno Allora Indenburg dice Intanto che gli Stati Uniti Si preparano Noi facciamo in tempo A finire la guerra Affamiamo l'Inghilterra Gli diamo la sparata Decisiva E prima che gli Stati Uniti Siano pronti Noi avremo già Affirmato la pace Questa è l'idea Però intanto Entrano gli Stati Uniti Che però ripeto Saranno pronti In giro di qualche tempo Secondo fattore La Russia La Russia È il paese più in difficoltà Sui fronti europei Certo Per tutti La guerra è molto difficile Provo con un sacco di morti Ma la Russia Effettivamente Sembra in ginocchio Non ce la fa Ha incassato varie sconfitte Da parte della Germania Ha un'industria Molto arretrata Un esercito Che non ne può più Ma soprattutto La gente in Russia Non ne può più Il popolo non ne può più È affamato È impoverito La Russia Ripeto è molto arretrata Non era affatto pronta Per la guerra E si scatenano Proprio nel 17 Tutta una serie di proteste Perché la gente Davvero è allo stremo Delle forze Proteste le quali Lo zar Si chiama Nicola II Non riesce a rispondere In maniera adeguata Anzi risponde A col pugno di ferro Mal consigliato Manda davanti alle proteste L'esercito A sparare sulla folla Invece di ascoltare Le richieste del popolo Reagisce Minacciando Di ammazzare pure il popolo Effettivamente Si verifica Nel marzo del 1917 Marzo per i russi Cioè marzo per noi Febbraio Per i russi Si verifica Una protesta Di piazza Molto forte Chiamata Domenica di sangue Alla seconda Della storia russa Con ben più di mille morti Tra quelli che protestavano Perché l'esercito Spara sulla folla Questo Dà il via A una serie di rivolte In tutte le città russe E lo zar Ormai non riesce più A tenere la situazione in mano E' costretto A abdicare E lasciare il potere Quindi In Russia Si apre una fase Di disordini Di caos Come vedremo Si cercherà di creare Un governo provvisorio Di proclamare Forse la repubblica Ma in realtà Questo caos Durerà fino a ottobre Barra novembre Sempre nel 1917 Quando prenderanno In mano il potere Con una seconda Rivolta I bolshevichi Cioè i comunisti Ma ne parliamo tra poco Intanto Disordini anche In Russia E non si capisce bene La Russia Si continuerà la guerra Oppure no Se continuerà a combattere Oppure no Quel fronte sta crollando Terzo fattore di importanza Nel 1917 E Caporetto Cos'è Caporetto E' la più grande disfatta Della storia Dell'esercito italiano L'Italia sta combattendo Mai da due anni Abbondanti Contro gli austriaci Sempre con questa Guerra di logoramento Ma Nell'ottobre del 1917 Il 24 ottobre In particolare Gli austriaci Rinforzati di nuovo Da elementi tedeschi Anche forti del fatto Che I tedeschi Hanno potuto Alleggerire La presenza Sul fronte orientale Contro i russi E dare un man forte Agli austriaci Gli austriaci Sfondano il fronte E l'Italia L'ha provato Per un sacco di anni A sfondare il fronte Degli austriaci Non c'era mai riuscita Adesso gli austriaci Riescono a Bucare La linea Del fronte italiano Proprio a Caporetto Che è una cittadina Oggi in Slovenia Più o meno vicino Alla zona di Gorizia Per intenderci Sfondano lì E penetrano E l'Italia Sembra Colta di sorpresa In quei giorni Sembra che L'Italia Stia per crollare A sua volta Per fortuna Dell'esercito italiano Dell'Italia L'esercito Dopo qualche giorno Di sbandamento completo Dopo una disorganizzazione Completa Una ritirata Completamente Convulsa Riesce a riorganizzarsi E bloccare L'avanzata austriaca Sul piave Che è un fiume Che scorre Vicino a Venezia Poco prima di Venezia Però questa Sconfitta di Caporetto È epocale Effettivamente Cade di nuovo il governo Si forma un nuovo governo Per tentare di Risolvere la situazione Un governo di unità nazionale In cui si dice Qua bisogna Che riusciamo ad arginare Se no È tutto inutile Guidato da Vittorio Emanuele Orlando Questo nuovo capo del governo Che decide anche Un cambiamento di rotta Cadorna Il capo di stato maggiore Viene cacciato Si prende un nuovo capo di stato maggiore Che è Dias Armando Dias Che decide di Agire in maniera diversa Da Cadorna Basta con la severità Di Cadorna Cadorna aveva addirittura Scaricato sulle truppe La responsabilità di Caporetto Con anche esecuzioni sommarie Lungo la ritirata Si decide di Alleggerire il peso sulle truppe Si danno maggiori licenze Si danno maggior rotazione Delle truppe Si il governo addirittura Arriva quasi a promettere Una riforma agraria Anche se un po' bellitaria Insomma ci sono Miglioramenti delle condizioni Di vita dei soldati Molto netti Perché si capisce Che trattare sempre male i soldati Ma andarli semplicemente a morte Fiacca decisamente Il morale delle truppe Forse non ci voleva un genio Per capirlo E questo provoca poi Disfatte enormi Si tenta di riorganizzare tutto Si chiede un ultimo sforzo Agli italiani Promettendo anche appunto Questa A mezza A mezza voce Una riforma agraria Si chiede un ultimo sforzo Si dice Bisogna che Tentiamo di resistere Concludiamo brevemente Il discorso sulla Russia Vedete a febbraio C'è stata una prima rivoluzione Che ha cacciato lo Tsar E ha fatto nascere Un governo provvisorio Ma la situazione è molto caotica C'è da un lato Un governo provvisorio Sostenuto dalla Duma La Duma era il Parlamento russo Questo governo È formato da varie forze Ma diciamo La forza principale È quella dei sociali evoluzionari È un gruppo di sinistra Guidato da un certo Kerensky Che diventa anche A un certo punto Il capo del governo Un gruppo di sinistra Molto forte nelle campagne Ma non marxista Che non voleva La rivoluzione bolshevica La rivoluzione comunista È un gruppo di sinistra Che vuole le riforme Soprattutto la riforma agraria Questo governo provvisorio È un governo Diciamo di centro-sinistra Diciamola così Che sta tentando Di tenere in piedi la Russia Di riorganizzare la Russia Ma che per il momento Non vuole uscire dalla guerra Perché la Russia Ha subito molte sconfitte Sotto lo zar E ha perso molti territori Il governo provvisorio Vorrebbe Riuscendo a riorganizzare la Russia A rilanciare l'esercito russo Riuscire a ottenere Qualche vittoria Contro i tedeschi Riuscire a strappare Qualche concessione In modo da arrivare A una pace Più equilibrata Che la Russia Non ci rimetta troppo Questa è l'idea Ma mentre il governo provvisorio Tenta di fare tutte queste cose E tenta anche di dar forma Alla nuova Russia A una Russia repubblicana Forse Chi lo sa Non si è ancora capito bene Ci sono dei gruppi Più piccoli Ma molto risoluti Che vorrebbero Invece Soluzioni diverse In particolare C'è un gruppo Che è quello formato Dai bolshevichi Si chiamano Cioè Il gruppo Del partito Dell'ex Ormai Possiamo anche Lasciare da parte Partito social democratico Operaio russo Partito marxista Questa ala Che era l'ala rivoluzionaria Che voleva invece Fare una rivoluzione Ancora più completa Questo gruppo bolshevico È guidato da Lenin Che è un rivoluzionario russo Che era scappato Dalla Russia Negli anni precedenti Ma che adesso Caduto lo zar Torna in Russia Torna in patria Proprio nell'aprile Del 1917 Torna E fa subito Dei discorsi Che passano alla storia Come le tesi di aprile In cui Dice Non dobbiamo fare Come dice il governo provvisorio Dobbiamo fare tutt'altro Dobbiamo fare subito la pace Qualunque sia il costo Subito uscire dalla guerra Perché nessuno ne può più Di questa guerra E poi dobbiamo dare il potere Non al governo provvisorio Ma ai soviet Tutto il potere ai soviet Cosa sono i soviet Sono delle assemblee Che si sono formate dal basso Spontanee Nelle fabbriche Nelle campagne Di gente che si riunisce E vuol dire la sua Sulla politica Sulla società Ora invece di ascoltare il governo Che vuole governarci dall'altro Autogoverniamoci dal basso Queste le linee I bolshevichi iniziano a muoversi Non sono ancora poi così forti all'inizio Ma crescono lungo i mesi La situazione è caotica E nell'ottobre del 1917 In realtà poi sarebbe novembre Dico sarebbe perché In Russia c'è ancora un vecchio calendario Che non è allineato bene Col calendario occidentale Ma vabbè insomma Famosa come rivoluzione d'ottobre A fine ottobre del 1917 I bolshevichi tentano Di fare la loro rivoluzione Attaccano il palazzo d'inverno Dove stava il governo provvisorio E prendono il potere Cacciano Kerensky Cacciano i sociali evoluzionali Dicono adesso Comandiamo noi E adesso facciamo le riforme Che porteranno alla nascita Di uno stato socialista Di uno stato nuovo Quali riforme? Beh in primo luogo Lini dice Usciamo subito dalla guerra L'avevo promesso Adesso avviamo le trattative Effettivamente si iniziano le trattative Per l'uscita della guerra Che vengono firmate All'inizio del 1918 Perché passa un paio di mesi La pace si chiama Pace di Brest-Litovsk Dal luogo in cui viene firmata Tra Germania e Russia Che vede la Russia Cedere un sacco di territori In realtà la Germania Visto che la Russia Fa di tutto per uscire La Germania dice Vabbè volete uscire Ma in cambio Ci date un bel pezzo di territorio Effettivamente La pace è molto vantaggiosa Per i tedeschi E molto danosa per i russi Ma a Lini Li interessava uscire Seconda cosa che Lini fa Invoca Proclama delle elezioni Per la formazione Nella nuova assemblea costituente Che dovrebbe dare forma Alla nuova Russia Queste assemblea costituente Si svolgono Nelle elezioni A suffragio universale Ma vede la vittoria Nelle elezioni Non dei bolshevichi Non di Lini E dei suoi Ma in realtà Dei sociali Rivoluzionari Il gruppo più forte Che potrebbe avere La maggioranza In questa assemblea costituente È quella formata Dagli uomini Di Kerensky Che è stato cacciato Allora Lini In sconfitto Alle elezioni Scioglie subito L'assemblea costituente E instaura Sostanzialmente Una dittatura Per tenere lui In mano le redini E per fare lui Le riforme Che secondo lui Sono necessarie Questo provoca Una guerra civile Quindi la Russia È uscita dalla guerra mondiale E di fatto Questo Fa arrabbiare Francia E Inghilterra Perché dicono Se tu Russia Esce la guerra mondiale La Germania Porterà gli uomini Che usava contro di te Li porterà A usarli contro di noi Ci mette in grande difficoltà E allora Francia E Inghilterra Dicono Tu Russia Devi rientrare Francia E Inghilterra Sostengono Chi invece Si pone contro I bolshevichi Vorrebbe continuare la guerra Quindi nasce una guerra civile Tra da una parte I bolshevichi L'armata rossa Così si chiama Il loro esercito Guidato da Un certo Trotsky Che diventerà importante Contro le cosiddette Armate bianche Cioè contro Quelle forze russe Che sono Antibolsheviche Che vorrebbero Continuare la guerra Quindi I social rivoluzionari Quelli che sono rimasti I fedeli allo zar Che magari qualcuno è rimasto E poi Aiuti che vengono Da Francia E Inghilterra La guerra civile Durerà un bel pezzo Ma lì ne parleremo Dopo la guerra mondiale Intanto la Russia È uscita Creando uno squilibrio Sui vari fronti Così nel 1918 Si arriva rapidamente Alla fine della guerra Intanto l'anno si apre Con un famoso discorso Di Woodrow Wilson Il Presidente degli Stati Uniti Che elenca I cosiddetti 14 punti Cioè le cose da fare Secondo lui Alla fine della guerra Visto che la guerra Sta per finire E se ne rendono conto tutti In primo luogo Forse la cosa più importante Lui Spinge Per l'autodeterminazione Dei popoli Cioè bisogna Che alla fine della guerra Ogni popolo Si è libero Di creare un proprio stato Ogni nazione Di avere uno stato In modo che si evitino Altri motivi di attrito Di conflitto E poi soprattutto Bisognerà creare anche Una società internazionale Che dirima le questioni Senza ricorrere alla guerra Sarà poi La società delle nazioni Ma dal punto di vista bellico Le operazioni sono molte Nel 1918 In primo luogo A primavera I tedeschi Tentano un ultimo Grandissimo sforzo Adesso che non c'è più la Russia Hanno portato uomini Sul fronte occidentale Tentano di sfondare Il fronte anglo-francese Tentano di dare questa spallata Prima che appunto Arrivino gli americani C'è una grande battaglia La battaglia alla Marna In cui i tedeschi Riscano anche a ottenere Una parziale vittoria Ma non decisiva Alla quale rispondono poi Nell'estate del 1918 Gli anglo-francesi Rafforzati stavolta Ad arrivare gli americani La battaglia La battaglia di Amiens Questa Che vede I franco-inglesi L'intesa Non sconfiggere i tedeschi Ma costringere i tedeschi A un progressivo arretramento Cioè i tedeschi Non vengono mai Risolutamente battuti Ma iniziano a indietreggiare Perché non riescono più A tenere fermo A mantenere l'avanzata Anglo-francese Quindi si avvicinano Progressivamente Verso il confine Della Germania Nel frattempo L'Italia Nell'autunno del 1918 Tiene finalmente Una poliosa vittoria Nell'ottobre del 1918 C'è la famosa battaglia Di Vittorio Vento In cui l'Italia Riesce finalmente A sconfiggere In maniera netta Gli austriaci Questo provoca Un crollo Dell'impero austriaco Perché l'imperatore Carlo È costretto ad abdicare E le varie zone Dell'impero austro-ungarico Cioè gli ungheresi Cioè i croati Eccetera Si staccano dall'impero Di fatto crolla Tutto l'apparato E infatti Nel giro di pochi giorni Gli austriaci Sono costretti A chiedere La resa All'Italia Che viene firmata Nella notte Tra il 3 e il 4 novembre Del 1918 Noi festeggiamo Il 4 novembre Come giorno della vittoria Infatti In cui a Villa Giusti Di Cina Padova Gli austriaci Firmano la resa L'inconfortabilità L'Italia vince Negli stessi giorni Però sta a crollare Anche la Germania Perché la Germania Continua ad arretrare Sul fronte Non ha ancora subito Questa grande sconfitta Ma ormai Il confine tedesco È vicino I franco-inglesi Potrebbero invadere La Germania Proprio per questo Continuo arretramento Del fronte Crolla il fronte interno In Germania Cioè Proprio I marinai Di Kiel E altri reparti Dell'esercito Iniziano ad ammutinarsi Cioè Dicono Basta combattere Ci rifiutiamo Di obbedire Siamo stanchi Siamo stufini Siamo morti Troppi Non ne possiamo più I reparti dell'esercito Non riescono più A farsi obbedire E pertanto Il Kaiser L'imperatore Gugliano II Scappa Abdica anche lui E scappa in Olanda E crolla il governo Crolla tutto in Germania Tant'è vero che Si forma Una sorta di governo provvisorio Anche se la situazione È caotica Quasi pre-rivoluzionaria Anche in Germania Si forma un governo provvisorio Che chiede anche lui La pace L'11 novembre Sempre del 18 La Germania Firma la resa Nei confronti Dei franco inglesi E americani Quindi finisce anche La lotta Sul fronte occidentale In tutto Questa guerra Che ormai si è conclusa Appunto nel novembre del 18 Ha fatto circa 9-10 milioni di morti Tra i combattenti E un'altra Di circa 7 milioni Di morti Tra i civili Le trattative di pace Si avviarono Nel gennaio del 1919 A Parigi E vennero filmati I vari trattati Ogni trattato Prende nome dal quartiere Dalla zona di Parigi In cui fu firmato E riguarda una diversa questione Ad esempio Il trattato di Versailles Riguarda la Germania Il trattato di Saint-Germain Riguarda l'Austria E poi anche altri minori A decidere tutto In questa conferenza Di pace di Parigi Furono i quattro grandi Cioè i rappresentanti Delle quattro potenze Vincitici Cioè Stati Uniti Francia Regno Unito E Italia Per gli Stati Uniti Partecipò Woodrow Wilson Il presidente Che abbiamo già citato Per il Regno Unito Il capo del governo Lloyd George Per la Francia Il capo del governo Clemenceau Per l'Italia Il capo del governo Vittorio Emanuele Orlando Come andò questa trattativa Di pace Si misurarono Due diverse linee La prima linea È quella di Wilson Wilson aveva già detto Nei quattordici punti Che l'idea sarebbe stata Quella di creare Una pace duratura Bisognava risolvere I problemi Che avevano portato Alla prima guerra mondiale Wilson vorrebbe una pace Che non fosse umiliante Per la Germania Per l'Austria Eccetera La seconda linea È invece quella Franco-inglese I francesi Inglesi Soprattutto i francesi Non sono affatto D'accordo con Wilson Vogliono in realtà Una pace molto dura Perché ritengono Che la responsabilità Della guerra Sia di Austria E Germania Anzi soprattutto Della Germania E quindi la Germania Va punita Non solo va punita Ma bisogna fare in modo Che la Germania Secondo loro Non possa provocare Altre guerre Quindi va fermata E controllata Risolutamente Perché la Germania Rappresenta per loro Un pericolo mortale C'è da dire Che gli Stati Uniti Entrati in guerra Alla fine Avevano avuto pochissimi morti Francia e Regno Unito Hanno avuto tantissimi morti E quindi Sono molto più duri Da questo punto di vista Alla fine prevale La linea Franco-inglese Quindi la pace Sarà piuttosto dura Qualcuno la definirà Una pace cartaginese Perché si tenta Di distruggere la Germania Come i romani Avevano fatto con Cartagine Allora Cosa prevedono i trattati? Il trattato di Versailles È quello che riguarda Appunto La Germania Prevede Intanto che la Germania Perda tutte le colonie E vabbè Quindi quelle poche colonie Che aveva in Africa In Asia Vengono tutte perdute Prevede anche Che la Germania Perda ampi territori Sia est Sia ovest A est Perde territori Che vanno a confluire Nella nuova Polonia Nasce Rinasce la Polonia Dopo che Per secoli Non c'era più stata Questa Polonia Non è esattamente uguale Alla Polonia di oggi Vi mostro una cartina Però ecco La cosa eclatante Che segna Il malcontento Anche in Germania È la nascita Del cosiddetto Corridoio di Danzica Danzica è Un porto Ancora oggi In Polonia Che viene dato Dalla Germania Alla Polonia Per far sì Che la Polonia Di quell'epoca Avesse uno sbocco sul mare Altrimenti Non avrebbe avuto Lo sbocco sul mare Ma questo corridoio Appunto è un corridoio Che finisce per separare Due diverse zone Della Germania Perché la Prussia orientale Che è più a est Di Danzica Rimane tedesca Ma separata Dal resto della Germania E questo sarà Oggetto di proteste Vibranti Quindi A est nasce la Polonia A ovest La Germania Perde l'Alsazia e l'Orena Territorio che aveva acquisito Con la guerra Di unificazione Della guerra franco-prussiana Del 1870 Che adesso passa Alla Francia In più Viene umiliata Anche nell'esercito Si stabilisce a Versailles Che la Germania Non possa avere Un esercito formato Da più di 100.000 uomini Viene abolita La leva obbligatoria Si impongono Pesantissimi debiti Di guerra Per la Germania Che deve ripagare Il Belgio E la Francia Con un sacco Davvero Un sacco Di soldi E poi Si impone Che la Germania Debba smilitarizzare La Renania La Renania È la zona di confine Vicina al confine Con la Francia Con il Belgio Eccetera Lì I tedeschi Non devono avere Nessuna forma di esercito Per evitare Pericoli Per Francia Belgio Eccetera Questo per la Germania Per l'Austria Cosa si decide Nel trattato di Saint Germain Si decidono anche Le sorti dell'impero austro-ungarico Che ormai non esiste più Nasce un'Austria Che è l'Austria attuale Una repubblica d'Austria Con i confini attuali Mentre nascono altri stati Nasce l'Ungheria Autonoma Nasce la Cieco-Slovacchia Che unifica Il popolo cieco E il popolo slovacco Qui si transgredisce Alla regola di Wilson Dell'autodeterminazione Dei popoli Perché qui non è Una nazione Uno stato Sono due nazioni Uno stato I cechi E gli slovacchi Però insomma Nasce la Cieco-Slovacchia La si unifica Per creare Una sorta di stato Un po' più forte Che possa arginare La Germania Poi nasce la Jugoslavia Che mette insieme Sloveni Croati Serbi Bosniaci Montenegrini Insomma Tante popolazioni Dei Balcani E soprattutto Si affronta anche La questione Dell'Italia Perché l'Italia Ha fatto guerra Vi ricordate Il patto di Londra Per avere dei territori Che appartenevano all'Austria Ma che l'Italia Riteneva suoi Cioè il Trentino Alto Adige Cioè il figlio Di Venezia Giulia La Venezia Giulia Istria E la Dalmazia Cosa ottiene l'Italia Dall'Austria Ottiene Sicuramente il Trentino Alto Adige Quindi Trento Ma addirittura Anche Bolzano Fino al Brennero Attenzione Anche qui Riguardo al principio Di autodeterminazione Dei popoli Non è che venga Proprio rispettato Perché Trento Il Trentino Era sicuramente Di lingua italiana Maggioranza italiana Ma l'Alto Adige Era all'epoca A maggioranza tedesca Di lingua Di cultura eccetera Quindi sarebbe Stato più logico Per il principio L'autodeterminazione Di popoli Che fosse assegnato All'Austria Invece passa all'Italia L'Italia ottiene Anche la Venezia Giulia Quindi Gorizia E Trieste Ottiene l'Istria Come promesso Però Quando si tratta Di discutere Della Dalmazia Non ottiene Quello che era stato promesso Nel fatto di Londra Era previsto Che l'Italia Ottenesse una bella fetta Della Dalmazia Quelle isole La costa Come vi dicevo Croata Ma si decide Gli altri tre Wilson Clemenceau E la Georgia Decidono di darle Alla Jugoslavia Per fare in modo Che la Jugoslavia Abba anche dei porti Importanti E possa avere Uno sbocco sul mare Importante E possa diventare Uno stato relativamente Economicamente solido L'Italia si offende molto Vittorio Emanuele Ottomano Che smette di esistere Nascerà La Turchia Attuale Il Medio Oriente Che era ottomano Viene spartito Nelle zone Della sedia Del Libano Si crea Un protettorato Francese Lì dovrebbero nascere Teoricamente Degli stati Ma ci si prende Del tempo Intanto Protettorato Francese Nelle zone Invece Della Palestina Dell'Iraq E della Transjordania Si forma Un protettorato Inglese Ultima cosa Da dire A Parigi Si decide Di far nascere Anche questa Società Delle Nazioni Che Wilson Aveva Promesso Già Nei 14 punti Questa società Delle Nazioni È una specie Di ONU Anteliteram Una società Che dovrebbe Mettere insieme Tutti i principali Paesi E dovrebbe Lottare Per la pace Dovrebbe garantire La pace In realtà La società Delle Nazioni Nasce Con molti difetti Che poi Ne mineranno L'efficacia Ecco Questo è quanto Sono fatto di tutto Per starci in un'ora E più o meno Ce l'abbiamo fatta Vi ricordo Che in descrizione Trovate i titoletti Che sono comparci qui Per riascoltarvi un pezzo Della spiegazione Trovate i link Anche alle spiegazioni Più ampie Più diffuse Più calme Per capire meglio Le situazioni E trovate poi Le playlist principali Social network La newsletter settimanale Se volete rimanere informati Su tutto quello che faccio I video Che posto Basta finito Ci vediamo presto Per altri video Anche questi Grandi sintesi In un'ora Ma poi video Anche più tranquilli Di storie, filosofie Educazione civica Ciao Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti.